Tu vuoi restare delle ore a cambiare canale sulle tv generaliste, sui canali generalisti e tu hai l'impressione di un immenso, incredibile vuoto pneumatico, qui non c'è solo il problema della droga, magari ci fosse solo il problema della droga, combatti quello, lo isoli, credo secondo me che il problema della droga vada inserito, sia tutto dentro un vuoto morale generale che viene da un uso della televisione e dei mass media secondo me scelerato. La prima cosa che mi viene in mente è un programma che facevano qualche tempo fa, non so se lo facciano ancora, spero che sia defunto e che siano evaporati tutti i suoi protagonisti, però penso a Distraction che era una cosa o un programma osceno che andava in onda qualche tempo fa, c'era un gioco in cui c'erano degli spettatori completamente nudi, nudi come mamma li aveva fatti, che avevano sulla schiena dei cartelli, delle cose eccetera e c'era della gente, di concorrenti con gli occhiali, con le lenti espresse come un fondo di bottiglia che quindi non vedevano niente, che giravano palpeggiando queste persone completamente nude per cercare di prendere questi cartelli e vedere cosa c'era. La cosa che per me era spaventosa non era tanto vedere i nudi in televisione perché dipende da che nudo è, era il fatto che siamo ormai, quella lì era la prova, che siamo in un paese così rimbambito. C'è signore che il giorno dopo andavano al mercato a comprare la pagliata o a comprare le fettucine che a sé prima ti ho visto in televisione, pur di andare in televisione si toglieranno le mutande, il reggiseno. Io non sono particolarmente moralista, però questo voglio dire mi dà l'idea di un paese con il cervello spappolato. La droga è dentro questa cosa qua? Cioè è vero che per esempio quella fase successiva agli anni 60, Fricchettone eccetera, aveva detto anche una filosofia che portava perfino a cercarla alla droga, però c'era anche la consapevolezza in qualche modo di cos'era, andare a prendere la droga era anche una sfida al mondo di allora, una sfida al conformismo, una sfida al perbenismo, era dentro una rivolta, ha fatto dei danni terribili quella cultura, però in qualche modo mi spaventa di meno quel tipo di cultura che una cultura in cui uno va fuori e si piglia all'esterno perché lo pigliano tutti. Non so se mi spiego, perché allora uno come me, che pure stavo a sinistra, avevo delle idee forti nei confronti dei Matusa, come si diceva allora, della società che c'era eccetera eccetera, però a me non mi sono mai fatto uno spinello. A una trasmissione televisiva, non molto tempo fa, mi è capitato di vedere uno che faceva il gioco, dice albero, legno, legno, tavolo, tavolo, piatto, piatto, pasta asciutta, grano, 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 campo eccetera eccetera. Allora, questo gioco qua a un certo momento dice scrupoli morali e lui risponde seghe mentali, cioè l'associazione che lui aveva fatto fra scrupolo morale e la con seghe mentali, cioè per carità era un somaro che poteva anche essere isolatissimo, però non sarebbe mai venuto in mente in altri momenti storici una cosa come questa, perché è tutta dentro una società in cui è passata negli ultimi anni l'idea che se puoi tutti quanti fanno i furbi, l'occasione fa l'uomo ladro, sì è vero quello lì è onesto, però forse perché non gli è mai capitata l'occasione, c'era un tessuto morale di questa società che si è slabbrato. I nostri ragazzi sono confusi, non capiscono, è una società che li tiene fuori, una società in cui su 19 mila docenti universitari, quelli che hanno meno di 35 anni sono 11, chi non è figlio di questa società, un ragazzo si domanda dove vado, dove vado? Secondo, una società che prefigura per questi ragazzi una società egoista, in cui quelli della mia generazione non hanno nessunissime intenzioni di cedere sovranità, perché nei paesi seri quando perdi due o tre volte esci, vai via, sei fuori, in una società come la nostra, Obama non sarebbe mai arrivato neanche a giocarsene le primarie, per cui i giovani sono tagliati fuori la società, non hanno spazio in politica, non hanno la possibilità neanche di pensare al proprio futuro, perché hanno dei contatti di lavoro che per garantire in modo eccessivo chi ha già un lavoro, lo toglie a loro, è dura, io credo che i ragazzi di oggi siano in una condizione davvero difficile e penso che in una condizione così difficile poi il desiderio di fuggire, che è quello che tante volte porta alla droga, sia una tentazione maligna, sempre in agguato e credo che la politica dovrebbe farsi carico di questo e capire fino in fondo quanto sia pericoloso il momento che stiamo vivendo per i giovani. Se la famiglia si riappropria del suo ruolo nel senso pieno, la famiglia ha certo che il punto di partenza è fondamentale, però la famiglia deve esserci, perché oggi non c'è la famiglia semplicemente con delle parole d'ordine come il family day o cose di questo genere. Io penso che siano la scuola, la televisione, i mass media in genere ad aiutare un paese a crescere o a portarlo progressivamente, credo che su questo noi, dico noi, nel senso di quelli che fanno informazione, abbiamo delle grosse responsabilità e penso che in particolare ne abbia la televisione, questo non perché io ce l'abbia in particolare con la televisione, io ce l'ho però, questo sì, con chi si è impossessato della cultura popolare e in nome dell'audite, della pubblicità, del consenso televisivo sul quale poi a volte puoi andare a costruire anche un consenso politico, ha seminato una cultura del vuoto, in questo senso io credo che non soltanto Berlusconi, perché sarebbe ingiusto dire che è solo responsabilità della sua, ma anche chi ha cercato di contenere Berlusconi abbassando il livello dei programmi e facendo delle cose sempre più popolane, oltre che popolari e spesso finendo per fare delle cose assolutamente cialtrone, abbia una responsabilità grossissima e credo che abbia una responsabilità grossissima alla sinistra, proprio grossa, che si è arroccata sulla cultura alta, sulla quale aveva leggemonia e ha completamente lasciato ad altri la cultura popolare.